Un luogo raccolto e intimo dove poter porgere l'ultimo saluto ai propri cari estinti al di là delle differenze culturali e religiose. Questa è l'idea della consigliera comunale del gruppo misto, Valeria Laimo, che ha proposto all'amministrazione la realizzazione al cimitero Angeli di una stanza del commiato. Una stanza che dovrà comunque rispondere a dei requisiti previsti dal decreto presidenziale del gennaio del 1997, la cui idea è stata sposata favorevolmente dall'assessore al ramo Maria Grazia Riggi, che si è già attivata per individuare i locali idonei per poterla realizzare. Tra questi al vaglio del comune anche i locali dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli. Lo aveva in mente già da parecchio tempo, è una forma di rispetto sia nei confronti di chi appartiene a religioni diverse, quindi buddhisti, induisti, musulmani, che così possono dare un degno saluto ai propri cari prima dell'addio. Ma anche nei confronti di quei cattolici che possono avere il piacere di dire due parole dinanzi alla bara, dare un estremo saluto un po' più laico rispetto alla celebrazione in chiesa. Ritengo che sia una forma di integrazione culturale, ma anche religiosa, è una forma di rispetto, perché le ultime volontà del defunto devono essere sempre rispettate, quindi magari qualcuno ha una richiesta particolare e si può esaurire. Per quanto riguarda la sala abbiamo già parlato con l'assessore competente al ramo, l'avvocato Graziella Riggi, molto probabilmente è già stata trovata una sala. Spero che abbia i requisiti sanitari e tecnici previsti dal decreto presidenziale del 1997, che sia un luogo quanto il più accogliente possibile, perché il momento è sempre triste, quindi una sala che abbia anche una certa luminosità può essere di aiuto nei confronti di chi sta vivendo un momento difficile, quello di dire addio al proprio caro. Grazie. Grazie.